Buonasera, buongiorno a tutti quanti, sono Marco Di Benedetto, consigliere nazionale UNASCA e siamo qui per parlare di questa situazione molto grave delle autoscuole italiane. Noi abbiamo un blocco di questa situazione che ormai come tutte, un po' le categorie professionali, è in grandissima sofferenza. Questa sofferenza è necessità urgente che venga sbloccata perché ci sono dei problemi legati a tutta una serie di situazioni. Noi pur avendo un codice a tempo che ci permette di rimanere aperti non possiamo operare. Quindi questa è una cosa già di per sé abbastanza grave perché abbiamo anche difficoltà a muoverci nell'ambito di tutta una serie di organizzazioni e di sostegni regionali, provinciali, ostadali e così via. Ma il problema maggiore sarà il fatto che noi potremmo riprendere le nostre attività con una grande facilità. Bisogna calcolare che oggi in Italia noi avremo un numero di allievi dentro nelle nostre autoscuole molto importante e nel momento in cui finirà questo lockdown completo dovremmo riportare questi ragazzi a fare gli esami di teoria. Gli esami di teoria che erano già complicati prima della pandemia. Oggi la situazione si è acquita e ci sarà necessità di sbloccare rapidamente questa parte. Noi abbiamo delle proposte che sono chiaramente dirompenti però è chiaro che in questo momento speciale necessitano delle situazioni speciali. Quindi chiediamo al legislatore di farci per esempio una delle proposte certificare la conoscenza della parte teorica andando direttamente con tutte queste teorie che altrimenti sarebbero difficili da smaltire presso le motorizzazioni direttamente all'esame di guida dopo un piccolo corso, un grande corso, un concorso all'interno delle nostre autoscuole e quindi iniziare a fare subito questa parte che riguarda la guida. Tanto l'accertamento delle norme dopo di essere state certificate vengono verificate anche sul campo perché se non si conosce la segnaleria, le norme di comportamento si dimostrano anche all'atto dell'esame di guida. Questo da una parte ci facilita l'ingresso alla liberalizzazione delle aule che ci svuoterebbero e quindi ricominceremo nelle aule solo con i nuovi iscritti e quindi con spazi adeguati e nello stesso tempo ci permetterebbe di spostare il lavoro sulla parte guida dove ci permetterebbe di recuperare una parte di questo deficit economico che ci ha prodotto questi due mesi di stop. Quindi è importante da questo punto di vista per noi questo tipo di situazione e questo chiediamo al legislatore. Non chiediamo un sostegno di qualunque tipo economico, chiediamo principalmente questo. Se non riuscissimo a sbloccare questa situazione per noi sarebbe già un grande risultato. E' chiaro che bisogna aggiungere che questa nostra richiesta è meramente provvisoria, cioè legata alla pandemia, nel senso che questa applicazione vale esclusivamente per le persone già iscritte presso le auto scuole all'atto della chiusura. Tutto quello che peraltro va gestito in maniera standard e ordinaria. E quindi è importante anche questo passaggio perché noi non ci vogliamo sostituire agli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione che peraltro sta facendo un grande sforzo per cercare di venirci incontro nel nostro lavoro e quindi darci una mano per ripartire. Per questo noi ringraziamo la Direzione Generale che sta facendo questo ma pensiamo che in questo momento potrebbe essere utile anche per loro avere questo disimpegno dalla parte dell'esame teorico che favorisca anche per loro una pressione minore sugli uffici con tutta la gestione anche sanitaria che dovrebbero avere. Grazie a tutti e grazie anche voi per questo spazio che mi avete concesso. Buona giornata.